Lui si avvicinò e in un attimo le fu quasi addosso. Il cuore di Julie sembrava volerle uscire fuori dal petto. I suoi sensi erano pronti come quelli di una preda che sta per ricevere un attacco. Quell'uomo era a pochi centimetri da lei, guardava fuori anche lui e si appoggiò con una mano alla balaustra della porta finestra, come a torreggiare su di lei. Poteva sentire il suo profumo così bene, da dargli alla testa. Senti uno strano formicolio, vero? Fece finta di non capire a cosa ti riferisci, scusa. Al tuo sangue che ribolle nelle vene, per la mia sola vicinanza. Julie stava cercando di far funzionare il suo cervello, in tutte le maniere, ma non le sembrava dare ascolto. Voleva solo fare l'amore con lui, in tutti i modi possibili a questo mondo. Quell'uomo si stava avvicinando, piano piano, e lei in quel preciso istante, decise di mandare a monte anni di femminismo e preconcetti e di abbandonarsi completamente al momento. Voleva vivere di puro istinto, e quando lui premette il suo corpo al suo, comprese che era solo quella la decisione giusta da prendere. L'erezione dell'uomo era palese, sentiva la testa martellare come in procinto di scoppiare in mezzo alle gambe. Percepiva un'eccitazione che si faceva sempre più incessante. Quell'attimo sembrava non finire mai, e l'attesa di un qualsiasi suo movimento era la cosa più eccitante che avesse mai provato. Come ti chiami? Giuli, e tu? Io sono l'uomo che ti farà godere come non mai. Le mandò dolcemente indietro la testa, e con l'indice e il medio, seguì il contorno delle sue labbra carnose.